Tanto tono che piove. Alla fine i migranti nel convento delle Stimmatini a Corso Umberto ad Avellino sono arrivati. Per ora una quarantina, nessun immagina all'interno convento off limits ufficialmente perché il responsabile era assente. Intanto non cambia la posizione della maggioranza dei residenti del centro storico. Qualche mese fa, quando si sparsero le prime voci, ci fu la protesta delle lenzuola bianche. Oggi sono pronti a costituire un comitato. Con i cash, quindi proprio. Altro che problema, abbiamo i bambini piccoli qua e dobbiamo stare sempre a guardare i bambini. E noi ci lavoriamo con loro, quindi stiamo bene. Noi non siamo razzisti, questo lo voglio sottolineare chiaramente, però non è possibile che in un quartiere come il nostro possano esserci tanti emigranti. Paghiamo sempre gli scotti di decisioni di altri che magari non vivono i problemi giornalieri che abbiamo noi. Ma in verità non ho sentito la Mendela, se devo dire questo, perché io li vedo salire e scendere, però non c'è movimento di scostumatezza che sì. Bisogna anche dire, una volta per tutte, è arrivato il momento che chiaramente si decida che queste persone devono, mia colpa, ritornare nel loro paese. Il quartiere non lo so, io cerco di tollerare, speriamo che si comportino bene, speriamo che li occupino in qualche maniera. È una battaglia inutile, bisogna soltanto conviverci e finisce là. Saranno di più loro che noi.